Sono stato tre giorni male sentite la voce, ce l'ho ancora bassissima quindi mi devo riprendere e come mi riprendo? Io pensavo di fare una pasta una pasta suggerita da alcuni miei amici la pasta allardiata che è una pasta che mi hanno suggerito degli amici napoletani che si fanno con questi monotri del pendolo che me ne sono rimasti ancora qualcuno il lardo e in questo caso mi hanno dato questo lardo stupendo nero dei nebri ringrazio il vecchio garo che mi ha regalato questo pezzo di lardo quindi incominciamo così qua l'olio non ci va senza olio assolutamente quindi prendo il lardo guardate che meraviglia guardate che meraviglia bellissimo questo è da mangiare così mamma mia guarda che roba guarda che roba che aspettavo è un dessert è un dessert non è un dolce è un dessert allora quindi faccio così lo prendo sottile 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 allora io ringrazio quei due quelle due amiche che mi hanno Sara John se non mi sbaglio e un'altra amica di facebook che mi hanno detto di questa ricetta e mi scuso con loro se non la faccio proprio perfettamente come hanno detto loro però calcolate che tra dieci minuti io ho un aereo e devo andare veloce però non vi posso lasciare senza una ricetta pure semplice come sempre provate non ve la devo fare allora vado così tutto batto a coltello in questa maniera allora quindi ci sono due ingredienti pochi niente 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 di tanto eccessivo però sta roba deve essere buona sempre il nostro motto è roba buona poca roba poca costosa però buona allora accendo l'induzione aglio intero intero scusate taglio a metà così quindi lo faccio insaporire bene qua bello perfetto ah poi pomodori taglio a metà questi li conoscete già li abbiamo usati sono buonissimi eccoli qua mamma mia marronchi guardate che spettate vado portiamo fuori da fuoco vai guardate qua guardate che spettate guardate qui con due sti litaggi adesso tiro fuori subito la pasta subito la tiro fuori quindi abbiamo usato il lardo del nero tenebri cioè quel maiale buonissimo siciliano guardate qui questa pasta che è meravigliosa che anche questa è siciliana eccola qua guardate che bella che bella linguina eccola lo so ora qualcuno dirà ma a te proprio piace la pasta lunga eh e sì mi piace che devo fare ecco qui poi mettiamo un po' di acqua di cottura proprio due 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 ingredienti due due ingredienti guardate qua andiamo a metterla tutta quanta eccoci qua piano piano assaggiamo un attimino se va bene il tomato di sale e se dobbiamo aggiungere qualcosa allora più che sale qui c'è una bella trattata di pecorino quindi fuori dal fuoco ecco qua pecorino ecco qua bello quindi non è la pasta quella per andare a fare la notata subito dopo per fare la notata è la pasta impegnativa però qua ti fa capire veramente che la pasta che delle volte ci sono queste paste questi piatti che sono fatte apposta per perché cosa? per la sostanza energia non chiacchiere ma energia ecco qui vai vai così e vai così vai e adesso sentiamo un pochetto che qua che qua ci sono tornate sempre del buon umore mi fa subito tornare in forma eccola qua eccola qua il rumore porla vai assaggiamo mamma mia guarda che robetta questa pasta è fantastica devo ringrazio proprio per la pasta aspetta un po' come si chiama? la damigella mamma mia buonissima ringrazio pure la damigella mi hanno regalato per questo pacco di pasta che è un po' mmm mmm una sorpresa buonissima veramente buona lardo buono mi raccomando due pomodorini buoni poi se ne so del pendolo va bene un altro pomodorino oppure pomodorini pelati buoni e fatela buonissima buonissima veramente mmm buonissima 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 buonissima